Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come avrete letto dal titolo Oggi vi faccio vedere la mia nuova attrezzatura da edging O anche detto egging E soprattutto una delle nuove canne della Seika Per questa pesca Ovviamente sono uscite in varie versioni Per tutte le tasche Quindi mi raccomando ragazzi Superiamo i 100 like per questo video Fare il prima possibile di portarvi in pesca A seppie Dunque mi raccomando lasciate like, condividetevi Iscrivetevi al canale se non siete qui riscritti Direi che non c'è altro da dire Via con la sigla! Via con la sigla! Sono andato a scegliere dunque Un mulinello leggero Non costosissimo Della taglia 2000 Perché comunque non ho bisogno di un 3000 E anche per risparmiare peso Inoltre è dotato di bobina match Ovvero non ha una bobina capiente E possiamo direttamente imbobinare il nostro attrecciato Ve lo vado a tirar fuori E così scoprite cosa si tratta Eccolo qua! Nuovo uscito del 2019 Redon 2000 Eccolo qua! 6 cuscinetti a sfera più uno Con il peso sulla taglia 2000 di soli 230 grammi Non male, ottimo anche come mulinello d'aria Molto bello e accattivante con questo corpo opaco che fa veramente il suo effetto Guardate qua che bello Come dicevo prima Bobina match Archetto monopezzo Molto molto bello E resistente Ottimo anche per troutaria Per spinning light Infatti questo penso di andarlo ad abbinare anche se mai un'altra canna Comunque il trecciato sarà molto fine Manopola con grip in modo da avere la massima tenuta Un design con quel mix tamarro però con una certa sobrietà Né troppo tamarro né troppo elegante diciamo Però devo dire che appena l'ho visto mi sono innamorato Guardate che bello Cosa c'è da dire? Ho detto già pesa 230 grammi Che per un 2000 non è veramente male Ha un rapporto veramente lento 5-1-1 Quindi ottimo per troutaria In più ha una frizione da 2,5 kg Viene fatto anche in taglia 4000, 6000 e 8000 Quindi possiamo utilizzarlo anche se mai Nella taglia 4000 per esempio per lo spinning alla spigola Oppure 6000 e 8000 per spinning anche più pesante Ad imbobinare metterò su un trecciato viral dello 008 Preferisco andare un pochino più su sottile rispetto al solito Solito nel senso non è solito mio Ma solito della pesca ad edging Di solito si usa un 12 Io preferisco uno 008 Si può usare neanche uno 006 Però 008 mi sembra un buon compromesso Io non sono amante della doppia manovella Ho mulinelli come avete visto anche nel penultimo episodio di competition is like Manovella doppia Ho il mulinello e manovella doppia sull'inglese Però sento il mulinello più faticoso Più affaticante E quindi ho deciso di puntare comunque sul mulinello a singola manovella Dato che non c'è solo canna e mulinello Direi che posso dare la canna Perché comunque c'è un sacco di roba da vedere Allora intanto devo dire che è abbastanza lunga Questa è la prima parte diciamo Annelli Fuji Come possiamo vedere Estetica veramente carina devo dire Con sughero Come impugnatura e insieme ad ava compressa Un portamulinello molto semplice Elegante e soprattutto comodo Ergonomico e posso dire se volete fare una bella combo Che si abbina bene Canna mulinello Non troppi soldi Comunque di spesa Questa è un'ottima combo Guardate ci sta molto bene canna e mulinello Poi contate qua che ci sarà una treccia gialla praticamente Io ve la consiglio altamente Stiamo parlando comunque di una canna medio economica Che però Ha da dire la sua Questa canna si chiama Akemi Della Seica Ci sono vari modelli E oltre a queste ci sono altre serie Come ho detto all'inizio del video Come le altre serie Sono fatte apposta Per l'edging Questa in particolare È lunga 7,8 piedi E può lanciare Edgy da 1,8 a 3,5 Per questo l'ho scelta È quella che Si adattava più Alle mie esigenze Volendo ci sono versioni più lunghe Più potenti Però questa era quella che Preferivo Date le sue caratteristiche Adesso vi vado a dare un altro po' di dettagli Fortunatamente la canna non me la posso aprire intera Perché non mi basta la stanza No scherzo Però sono comunque canne lunghe Quella da edging Riportato bianco Molto sensibile Bianco perché? Perché è dotato di vernice fluorescente Che ci permette anche di peschere al buio Perché questo si illumina di notte Grazie all'utilizzo di una torcia O meglio ancora di una torcia UV Permette di vedere il vettino anche al buio Canna molto reattiva comunque Cioè non è una mollaccione Diciamo come quelle da trotaria Ha una buona schiena Anche per fare lunghe gittate Moon glow Ovvero Ovvero Che sta a significare che Punta fluorescente E comunque le parti Bianche Vanno a caricarsi di energia E per avere anche un perfetto innesto Abbiamo La linea Per combaciare perfettamente la canna In modo da avere la migliorazione possibile Ve la faccio vedere un attimo montata Questa è così Come si presenta Bella Bella puntina Anelli Che prendono bene la canna E molto piccoli Eccola qua Guardate Veramente Veramente Bella E questa spero di farvela vedere Al più presto possibile Con qualche bella seppia in canna Speriamo Come vedete l'impugnatura Molto comoda Avvolgente Permette di tenere Comodamente Io ho una mano comunque Nella media diciamo Un po' più grande forse E sto veramente comodo Moon glow Si adatta bene Anche come stile Come potete vedere Adesso dovreste vederlo Col filo in bobina Però Secondo me È un bel abbinamento Soprattutto per chi vuole iniziare Questa canna adatta Dato il suo costo Che è abbordabile Molto abbordabile Anzi È perfetta Per chi vuole iniziare E utilizzarla Al meglio Ovviamente Sono tentato Anche a non utilizzarla Solo a seppie Ma a fargli un piccolo Stress test Per vedere Cosa è capace Questo bel fusto di carbonio Andiamo a vedere Qualche altro acquisto Che ho fatto Per preparare la stagione Ovviamente La fissa dell'edging Non è che mi è arrivata Così di colpo Ma è da un po' Di mesi Che ci sto pensando Perché Non ho sempre sentito parlare Mi ha incuriosito Come tecnica Molto utile Per chi come me Piace la pesca veloce Ed è abituato A pescare velocemente Anche come abitudine È ottima Perché Spesso la pesca lenta Premia E questa pesca Ti insegna A pescare lentamente Nello spinning Quindi Dato che Abbiamo parlato Di canna Molinello Vabbè il filo Adesso non ce l'ho Andiamo a parlare Quindi di Edgy Edgy Ne ho una decina Non sono stato qua A spacchettarvi Perché se no Il video era infinito Ve lo ho già tirato fuori Ho preso 9 della taglia 2.5 E un decimo Della taglia 3 Nel caso mi servisse Un po' più di peso Un po' più di affondamento Oppure anche Un po' più di taglia Per magari cercare Qualche esemplare Un pochino più grosso Magari Chi lo sa Allora questo è il primo Colorazione abbastanza naturale Questo come vedete È già segnato un po' Perché l'ho già utilizzato Un po' di volte Negli anni passati Insieme a questo Questa è una colorazione Più scura Come chi fa questa pesca Sa Per la seppia Si guarda al contrario Il colore Ovvero Se c'è molta luce Si usano colori chiari Se c'è poca luce Si usano colori scuri Fatto brevemente Quindi è sempre una buona cosa Fare Un po' un po' Un po' di chiari Un po' di scuri Un po' di glow E questo è uno dei miei scuri Molto carino Dalla Tubertini Poi qua Vi faccio vedere direttamente Quello della taglia 3 Come potete vedere C'è un po' di differenza Cioè guardate Un pochino più grande Cioè sono uno di fianco all'altro Non è prospettiva questa ragazzi Non è prospettiva Per passare al glow Eccone qua Uno Molto carino Passiamo un colore un po' più Scuro Con questo Verdolino Veramente carino Ancora più scuro E Veramente strano come colore Però accattivante Questo viola oro Veramente carino Mi attirava pure a me Poi abbiamo uno simile Eccolo qua Un po' più chiaro questo invece Abbiamo un rosa Che non si sa mai Ricorda un po' un gambero Molto molto carino Non poteva mancare Una colorazione clown Con un bel colore visibile Testa rossa Corpo giallo Infine non per ultimo Eccolo qua Mezza rosa Mezza bianco Dunque questa era tutta l'attrezzatura Che mi sono preso Per iniziare Magari Boh Mi prenderò Altre 3-4 canne Altre 3-400 edgy Ma Boh Li vedrete magari più avanti Dunque mi raccomando ragazzi Grazie per la visione Lasciatemi qua sotto Anche dei suggerimenti Dato che sono nuovo Di questa pesca Così in modo da poter imparare qualcosa E trasmetterlo anche agli altri Dunque mi raccomando ragazzi Lasciate like Condividetevi Iscrivetevi Se non siete ancora iscritti Io penso di aver detto tutto Spero il prima possibile Di portarvi video edging Ho già un paio di posti in mente Bisogna solo andarci E aspettare il trecciato Soprattutto Dunque Per questo video è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti